6 novembre 1796 muore caterina seconda di russia detta alla grande nata nel 1729 imperatrice dal 1762 a seguito della morte del marito lo zar pietro terzo riunisce sotto di sé tutta la grande russia durante il suo impero promulga una serie di riforme in senso liberale donna pienamente inserita nella cultura del suo tempo si circonda di intellettuali e favorisce la nascita di circoli culturali illuministi molto attivi è amica di intellettuali come voltaire d'iderot e d'alambert